La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News, andiamo a sfogliare le pagine del mattino, dalla prima pagina del mattino nazionale si parla di un nuovo allarme terremoto. Ieri due scosse di terremoto, ancora una volta hanno colpito il centro Italia, due scosse di terremoto abbastanza forti, stiamo parlando addirittura di magnitudo 6.3 la scossa delle 21. Vediamo infatti il titolo, la grande paura del terremoto, due scosse tra Marche e Umbria, avvertite in tutto il centro sud, crolli a Norcia e anche a Amatrice, migliaia in strada, scene di panico, dramma a Ustita, il paese. Non c'è più, torneremo ancora a parlare di questo terremoto perché il mattino oggi dedica proprio ampio spazio alla vicenda. Vediamo intanto l'analisi, se il sisma smonta gli zero virgola dei censori europei e poi nelle interviste parla il vulcanologo Francesco Mulargia, nuova faglia collegata con Amatrice. Il fenomeno continuerà ancora per diversi mesi sotto quella zona, tre movimenti in atto. Lasciamo questo tema, su cui come detto torneremo nelle pagine di primo piano, ora andiamo a parlare invece della visita in campagna del Premier Renzi. Non temo il voto, queste le sue parole, un leader cambia i sondaggi, a sud sgravi al 100% per le nuove assunzioni, il Premier a tutto campo dopo la firma del patto per Napoli. E ancora il richiamo intanto di Mattarella, le critiche all'Unione Europea siano costruttive. Ancora il piano Napoli, metro e restauri, sono stati stanziati 308 milioni per lavori che superano i 600. Lasciamo anche questo tema, andiamo a parlare invece di sport, ieri recupero di campionato, il Napoli batte l'Empoli e quindi si trova al terzo posto scavalcando nuovamente il Milan. Vediamo il titolo, nel segno di Mertens, il falso 9 non perdona, chi di cash chiude il match, Empoli KO affatica. Il punto, ma contro la Juve serve molto di più. Lasciamo la prima pagina, andiamo ora nelle pagine di primo piano, dove come detto si parla ampiamente delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia o scosse che hanno provocato comunque crolli. Quindi torna la paura del centro Italia, vediamo infatti il titolo. Notte di panico, sisma, violente scosse al centro, molti crolli, la gente urla in strada. Magnitudo 5.4 e 5.9, un morto per infarto a Tolentino. Il sindaco di Uscita, Paese, è finito. Le misure, evacuati tre ospedali, la gara tra Pescara e Atalanta, sospesa per due minuti. La paura nelle marche, saltate le linee elettriche e quelle telefoniche, stop ai treni, scuole chiuse. Vediamo una parte dell'articolo, due nuove scosse violente, le più forti scatenate dal 24 agosto, perché ricordiamo comunque il centro Italia ha continuato a subire comunque scosse, ad avvertire scosse di terremoto anche se di lieve entità. Vediamo, quindi tornano a squassare il centro Italia a due mesi dalla tragedia di Amatrice. Il fiato di tutti si ferma alle 19.11 quando un terremoto di magnitudo 5.4 a 9 km di profondità si abbatte sulla provincia di Macerata, tra Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso, Uscita e Preci per propagare panico e tremori fino all'Aquila, Perugia e Terni. Poco più di due ore dopo, alle 21.18, si registra una replica ancora più violenta di magnitudo 5.9 che spinge il panico oltre la soglia di guardia. E continuiamo intanto di taglio basso, dalle verifiche nelle tante mini frazioni, per ora si registrano solo lieve feriti dalla Protezione Civile di Rieti, il commissario Errani, coordina verifiche e soccorsi. La pioggia al momento dello sciame sismico imperversava il maltempo e tanti erano nelle abitazioni. Lasciamo questa pagina, continuiamo sul tema terremoto, vediamo come lo raccontano, chi lo ha vissuto, vediamo il titolo, il racconto, le pareti ci sono venute addosso, è stato peggio dello scorso agosto, ha visto tutti i cittadini strada, rispuntano le tendopoli, fai da te l'infarto, ha usito a una giovane donna, si sente male, il sindaco possiamo solo pregare. E poi nella fotonotizia vediamo alcune macerie, quindi si sono comunque registrate i crolli, anzi case che sono crollate, vediamo infatti il titolo, vediamo infatti la foto. Poi continuiamo la mobilitazione, subito operativi i vigili del fuoco sui luoghi del sisma, 41 squadre, il piano, il capo della protezione civile Curcio, coordina i soccorsi con Palazzo Chigi, la fuga ha visto numerosi danni e gente riversata in strada, crollati molti cornicioni e poi il patrimonio in pezzi, a Norcia la chiesa di San Salvatore, caduto il crocifisso di San Benedetto. Ancora il bilancio, l'Aquila, riecco il grande incubo, anche l'Abruzzo torna a tremare, mentre le Marche a Teramo, attivata la protezione civile, pochi danni, ma scuole chiuse. Quindi insomma torna la paura nel centro Italia del sisma, a pochi mesi, a poche settimane dal sisma di agosto che ha distrutto accumuli e amatrice. Lasciamo questo tema, andiamo ora a parlare dell'economia, parliamo dell'IVA, torna l'incubo dell'aumento dell'IVA, si parla di un aumento previsto però per il 2018. Vediamo infatti il titolo, le misure, slitta l'aumento, ma nel 2018 arriverà al 25%, nella clausola di salvaguardia, pignoramenti anche sui conti correnti e il rincaro di accise. Vediamo i commenti. Camusso, finora dal governo solo slide grave se i fondi per i contratti della pubblica amministrazione fossero dimezzati. Zanetti, eventuali modifiche e manovra sono un affare del Parlamento, nessun obbligo con l'Europa, mentre Brunetta, Renzi, fa il feroce ma la verità è che l'Europa l'ha bloccato in manovra, solo nuovi debiti. E ancora i capitali, i termini della voluntary disclosure riaperti fino a luglio del 2017. La lettera di Bruxelles si lavora al compromesso, Moscovici, i rilievi non vanno drammatizzati, Palazzo Chigi e Tesoro provano a far tornare il sereno con i custodi del rigore europeo. Il deficit salirà all'1,6% il prossimo anno, numeri che i tecnici europei contestano. Questo per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la legge di stabilità. Lasciamo questo tema. Andiamo ora invece sulla cronaca. L'inchiesta che riguarda da nord a sud tangenti per gli appalti, un filone di inchiesta collegato a Mafia Capitale. Vediamo il titolo. Tav Ligure, Salerno Reggio, tangenti negli appalti, arrestato il figlio di Monorchio, ex ragioniere generale, cantone, grandi opere da commissariare. Mazzette ed escort a parti truccati e favori da nord a sud, un sistema diffuso che è coinvolto tra le maggiori aziende del nostro paese. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelare eseguite nella giornata di ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, diretti dal generale Antonio De Vita. Un'operazione denominata amalgama proprio per la scadente qualità di cemento usato che è stata coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino e che nasce da uno stralcio del fascicolo su Mafia Capitale. Al centro dell'inchiesta il sistema corruttivo per realizzare i lavori del sesto macrolotto della tre Salerno Reggio Calabria, del problem over di Pisa e del terzo valico ferroviario Genova-Milano. Vediamo le parole di Raffaele Cantone. Abbiamo già chiesto copia delle ordinanze cautelare e valuteremo se ci sono le condizioni per chiedere il commissariamento di alcuni appalti se necessario. Siamo pronti a farlo. Quindi si parla ancora di appalti truccati. Continuiamo sempre su questo tema e per questo caso aste falsate con paghette o sesso. Il cemento sembrava una colla. Il general contractor pur lavorando per i privati aveva funzioni di controllo. Vediamo le escort. Conosco due amiche, le faccio andare in albergo. Ti piacciono le brasiliane? No, mi fanno schifo queste. Alcune parole nelle intercettazioni. Amalgama, il calcestruzzo. Prima era acqua, poi bloccava la canalina. Le miscele non erano idonee. E lasciamo anche questa pagina, questa brutta pagina di cronaca per quanto riguarda ancora legata agli appalti pubblici. Ora andiamo invece a sfogliare le pagine del mattino di Salerno. Partiamo dalla prima pagina, la sanità al centro della prima pagina. Un argomento principale, soprattutto si parla dell'ospedale Ruggi. Ancora un caso di dipendenti. Sui dipendenti, Ruggi, il dipendente fantasma. Irreperibile da quattro mesi snobba anche la disciplinare via al licenziamento. Vicenda singolare nell'azienda ospedaliera colpita dallo scandalo, assenteissi, elusi tutti i controlli. E sempre a Salerno, il caso vigile a visita medica, l'assessore si confonde. Ancora la storia, studio e riscatto dal carcere alla paninoteca. Era detenuto nel carcere di Forni. oggi ha aperto una paninoteca a Pagani. Il sogno di un riscatto è divenuto possibile grazie a un percorso di studi affrontato dietro le sbarre del penitenziario dove da sei anni è stata istituita una sezione dell'Istituto Alberghiero Virtuoso che a giugno prossimo sfornerà i primi immaturandi. Cambiamo argomento, spostiamoci di fondo. scusate, palazzi storici, il piano restyling da Torre Angelare al centro antico, patto d'azione tra Comune e De Manio. E sempre di fondo, l'urbanistica, ex carceri e San Massimo, strategia per la valorizzazione. Per lo sviluppo, aree di crisi, c'è anche battipaglia. Le notizie a centro pagina. Partiamo dalla fotonotizia, l'inchiesta, stupro di gruppo nella sala massaggi, incastrato il terzo uomo del video shock. E sempre per la cronaca, stalking e minacce alla ex, processo al re del by night, denunciato pellegrino, il GIP lo rinvia a giudizio, il producer legame è finito, poi lei si è inventata tutto, così l'ho querelata anche io. A Sarno invece vuole l'appalto, pugni in faccia al vice sindaco. Andiamo di taglio basso, pensionato ucciso a botte, giallo in Romania, vittima a un 65enne di ascea, si scava nei suoi rapporti sentimentali. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine dedicate alle notizie che provengono dalla parte sud, quindi da Eboli e Cilento, Vallo di Diano, dove di taglio basso, per quanto riguarda le notizie del territorio, del Cilento e del Vallo di Diano, troviamo la notizia di Sanza, l'intervento del sindaco, per quanto riguarda i rifiuti sulla Bussentina. Vediamo, i rifiuti sulla Bussentina, tocca all'ANAS rimuoverli, il Comune la spunta sul Tarre, il Comune a spuntarla nella diatriba legale, contro ANAS, su chi è tenuto a pulire le aree limitrofe, alla variante Bussentina, una battaglia tra enti pubblici, decisa per ora dal Tarre, che ha respinto il ricorso presentato dall'ANAS. La diatriba parte dalla presenza di sacchi di immondizie e rifiuti, vari lungo la strada che porta al mare, attraversa Sanza, su chi avesse la competenza a rimuoverli. Quindi il Tarre dà ragione al Comune di Sanza, e respinge il ricorso, quindi sarà la controparte che pagherà le spese. E lasciamo anche questa pagina, lasciamo le pagine del mattino, ora andiamo sulla Nuova del Sud, vediamo dalla Basilicata quali sono i principali argomenti per oggi, giovedì 27 ottobre. Vediamo il titolo di apertura, Melfi, scontro fino a tardanotte, Consiglio Comunale Fiume sulla riforma sanitaria, Pittella duramente contestato, il rischio di dimensionamento del San Giovanni di Dio, agita la città, il governatore non si sottrae al confronto, ma è bagarre. Continuiamo migranti, la Basilicata come il Kosovo, prendi una regione estesa, ma con pochi abitanti, isolata con 131 comuni, solo due, con più di 50 mila abitanti, e gli altri arrampicati in aree imperve, senza servizi. Così inizia l'articolo, andiamo avanti, Potenza, Via, il CDA, Lacta, meno Poltrone e Spartonze. A Matera, Ferrovia di Matera, sarà mobilitazione motivata e collettiva. Per le notizie a centro pagina, Lucani beffati dai titoli tossici, Veneto, Banca, anche in Basilicata, cittadini ridotti sull'astrico, imprenditori e pensionati raggirati, in fumo 46 milioni di euro di risparmi. Continuiamo la Lucana Film Commission, altro ricettacolo di consulenze, nel mirino gli ultimi due bandi, e Rosa attacca. Per la cronaca, Card Benzina, risolvere il problema a scadenza, la Tronico si appella alle poste, ma in molti scelgono i contatti, a Policoro distrugge tutto in ospedale, al Terminal Bus, arrestata una donna rumena. Vediamo le notizie di sport. Calcio a 5, Serie A2, Real Team smantella, sponsor in fuga. In Serie D, il Francavilla schianta la San Cataldese, e vola in coppa. Sempre in Serie D, a Gresta racconta il momento no del Picerno, faremo di tutto per risalire. Ancora, per il Futsal regionale, pubblicati i calendari di C1, e dei due gironi di C2. E con questa pagina di La Nuova del Sud, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, riprenderemo tra pochissimo, per sfogliare le altre pagine dei nostri quotidiani. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa, che apriamo con le pagine del quotidiano La Città. Vediamo il titolo, una notizia di cronaca di un uomo ucciso, pare ucciso, in Romania. Vediamo infatti il titolo, ucciso dal nuovo uomo della sua ex, un cilentano va in Romania, per riprendersi l'amata, il rivale lo accoltella. Questo è il titolo di apertura, questo è l'argomento di apertura, ma andiamo di taglio alto, perché anche la città si occupa delle nuove scosse di terremoto che si sono registrate nella serata di ieri nel centro Italia, che hanno interessato un po' tutte le regioni di Marche, Umbria, ancora una volta l'Abruzzo e anche il Lazio, forti scosse di terremoto che sono state avvertite fino anche a Roma. Vediamo il titolo, terremoto, terrore e distruzione, nuove forti scosse nel centro Italia sono state avvertite anche in Campania. e vediamo le cifre impietose per Salerno, l'emergenza lavoro, tracollo per le donne. Cambiamo argomento, andiamo a centro pagina, vediamo nella fotonotizia, si parla della notte bianca a Salerno con Orietta Berti e notte bianca vintage, è stata sempre annunciata più volte, ma poi a causa del maltempo rinviata, adesso l'attesa per la notte bianca a Salerno è finita, la città si prepara a vivere due grandi notti, sabato 29 e domenica 30 ottobre. La cronaca stalking va a processo, botte alla compagna, nei guai il patron di stress di notte. Ci spostiamo di fondo, il comune munge, il bancomat parcheggi, cresce il canone per Salerno Mobilità, con l'approvazione della delibera relativa a Salerno Mobilità, aumentano le entrate previste per il comune, la società grazie agli utili prodotti è sempre riuscita a versare molto denaro nelle casse dell'amministrazione. Per quanto riguarda invece lo sport, parliamo della salernitana, ci spostiamo di spalla, lotito, sannino, botte e risposta sul futuro. E poi l'ex più atteso, il ritorno di Gattuso, il calore della Sud, era il mio doping, Rino Gattuso, torna allo stadio Arechi, nella prossima gara, contro la Salernitana, per l'allenatore del Pisa sarà un'emozione particolare, la curva Sud, era il mio doping, ha detto l'attesissimo ex, quindi attesa soprattutto per il ritorno proprio allo stadio Arechi di Rino Gattuso, tantissimi infatti tifosi che saranno presenti per salutare il campione del mondo. Ora andiamo avanti, andiamo nelle pagine di primo piano e parliamo anche con la città del terremoto che si è registrato nella serata di ieri ancora una volta nel centro Italia. Vediamo due fortissime scosse di terremoto, l'Italia trema ancora, paura e distruzione, così apre per questo tema la città sulla pagina di primo piano due scosse, una alle 19.11 e un'altra alle 21.18, la prima di magnitudo 5.4, la seconda più violenta di magnitudo 5.9, avvertite anche in Campania, in particolare nell'Agro e nel Vesuviano, quindi torna l'incubo terremoto. Il sisma ha colpito l'area tra Perugia e Macerata, i danni maggiori sono stati nel piccolo borgo di Ussita che conta 440 abitanti, il sindaco Giuliano Rinaldi, il nostro paese, è finito. Centri abitati al buio e sotto la pioggia per tutta la notte, allestite tendopoli in centinaia, hanno dormito fuori casa, scuole chiuse in Abruzzo, Marche e Umbria. E di taglio basso, bagnasco ad Amatrice, grande coraggio, il presidente della CEI, sui luoghi colpiti dalle scosse di agosto, vista la forza spirituale delle persone. Lasciamo il tema terremoto, andiamo ora su un altro caso di cronaca, ancora arresti per appalti truccati, un altro filone di inchiesta di Mafia Capitale, vediamo il titolo, tangenti, grandi opere, 34 arresti nel mirino A3, terzo valico e metro di Pisa, in manette il figlio di Monorchio, indagato Lunardi Junior. e poi vediamo quali sono gli appalti, dove sono ubicati gli appalti, per lo più sono nella zona nord, quindi tra Toscana, Liguria e anche Piemonte, perché dovrebbe essere, si parla qui dell'autostrada che collega Genova a Milano e poi la Reggio Calabria, ancora una volta la Salerno Reggio Calabria, quindi nel mirino degli appalti truccati. stiamo parlando del sesto lotto. Andiamo avanti, quindi lasciamo questo tema, andiamo ora sulle pagine che interessano invece il Cilento e il Vallo Lidiano. Si parla di rifiuti in primo piano, gestione, ciclo rifiuti, 15 comuni si mettono in proprio, enti associati dalla Valle dell'Alento alla costa cilentana, ma la testa abbassare i costi e migliorare il servizio. A San Rufo invece il Consorzio di Bacino Salerno 3, Zambrotti indispensabile e nuova proroga del CdA Enrico Zambrotti ricoprirà per altri due anni fino al 31 dicembre 2018 l'incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bacino Salerno 3. La decisione è stata adottata dal CdA dell'Ente con una delibera votata da Vittorio Esposito Presidente del CdA e Vice Presidente Angelo Maria Carucci e dai consiglieri Benemino Curcio e Carmine Cocozza. Il Direttore Generale del Consorzio di Bacino Salerno 3 resterà in sella come abbiamo detto fino a dicembre 2018 le critiche dei sindaci di Sala e San Rufo ai vertici dell'Ente infatti vediamo i commenti ci ha lasciato alquanto perplessi e meravigliati questa proroga fino al 2018 parla Francesco Cavallone il sindaco di Sala Consina affermorestando che ci sono anche altre problematiche di carattere democratico da risolvere all'interno del Consorzio ancora più dure le parole del sindaco di San Rufo ormai questa situazione è diventata insostenibile non si può accettare che ci siano persone che da una vita gestiscono il Consorzio nella gestione usano anche due pesi e due misure lasciamo questo argomento andiamo di taglio basso a Vallo della Lucania a manutenzione scuola e appaltati tre interventi e lasciamo le pagine del quotidiano la città ora andiamo invece sulle cronache la prima pagina i principali temi stress di botte sarà processato a febbraio Enzo Pellegrino volto noto della TV e della Salerno by night è accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna Francesca Gentile secondo l'accusa oltre a perseguitarla avrebbe mandato all'ospedale la donna rifertata con 15 giorni di guarigione e poi anche le cronache parlano del terremoto delle scosse di terremoto che sono state avvertite nel centro Italia seconda scossa avvertita anche a Nocera e a Angria Salerno resta ancora senza protezione civile terremoto tra Marche e Umbria a tweet del senatore Cioffi scatena le polemiche a Sarno pretende il posto al comune aggredisce il vice sindaco Ferrentino e a Salerno con postaggio ecco cosa scrive l'ARPAC contiene rifiuti non idonei continuiamo con le notizie a centro pagina scandalo a Baronissi appena inaugurata frana la discarica di Cariti situazione pericolosa per la presenza di rifiuti che sono trascinati a valle sotto accuse e lavori pagati un milione di euro e poi individuati i pistoleri del far west a Nocera si tratta di 5 giovani che fanno parte dello spaccio attivo in città e che ruotano intorno alla zona di Casale Nuovo anche Sarno e Landino erano armati probabilmente temevano di essere vittime di un agguatore contate per i protagonisti della sparatoria continuiamo a Castellammare assunzioni sospette alla Soget la segnalazione dalle opposizioni a Vetri sul mare non calunniò il sindaco con le sue denunce assolto Agnello Langella mentre ad Agerola in carcere il pizzaiolo che ha ucciso per gelosia questa è la prima pagina di Le Cronache andiamo nelle pagine dedicate alle notizie del Cilento e del Vallo di Diano in apertura Vallo della Lucania economia in ginocchio per il parassita delle Castagne il parco corre ai ripari l'ente dei comuni riunisce la propria assemblea direttiva per la calamità abbattuta sia oggi riunione a Palazzo Mainenti del consiglio direttivo del parco del Cilento Alburni e Vallo di Diano il presidente Pellegrino proporrà un atto deliberativo a sostegno delle produzioni di castagne penalizzate di taglio alto Polla il francescano Padre Antonio Emanuele Basso nuovo parroco della chiesa Cristo Re l'investitura ufficiale giunta direttamente dal vescovo Monsignor Antonio De Luca durante la Santa Messa di domenica scorsa e poi ancora una notizia del Vallo di Diano sala consiglina la tutela penale civile dei minorenni corso di formazione alla scuola camera mentre a perdi fumo caso legionella l'amministrazione in campo per tranquillizzare tutti i cittadini queste alcune delle notizie che troverete sulle cronache ora andiamo invece a sfogliare Metropolis vediamo la prima pagina smascherato il terzo orco questo è il titolo di apertura l'inchiesta minori stuporati nel centro massaggi di Cava individuato un altro responsabile è un salernitano di 75 anni incastrato da una delle vittime nel confronto all'americana a Salerno in carcere cercando il riscatto a Forni studiano 80 detenuti le storie raccontate dalla casa circondariale di taglio alto ucciso di botte per soldi e gelosie l'uomo aveva raggiunto la sua ex convivente in Romania ha fermato il marito della donna il 65 anni cilentano Antonio Sessa barbaramente ammazzato in Romania andiamo a centro pagina terremoto la terra torna a tremare nuove scosse nel centro Italia paura anche in Campania e poi per Ponte Cagnano tutto da rifare per la surroga di Vecchione questa la decisione per quanto riguarda invece la sanità Polimeni le visite sono a pagamento smentito De Luca che invece aveva annunciato le visite gratuite fino a fine anno sempre per la sanità mamma batte l'asle sentenza pilota trasferita a Vallo la donna ha vinto il ricorso continuiamo le notizie riportate di fondo Salerno stalking galla ex va a processo Enzo Pellegrino sempre a Salerno infermiere assenteista viene licenziato mentre nei picentini uccise il padre scontro di pena per Di Francesco le notizie riportate di spalla parlano di sport la serie B dilemma obiettivo per la salernetana le parole di Sannino e poi intanto la salernetana spetta alla Rechi il pisa di Gattuso Gattuso torna alla Rechi fu il mio doping queste le sue parole mentre in serie D la cavese sconfitta in coppa ai rigori e con la prima pagina di Metropolis chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata